Un anno. Questo qui è il quinto anno. Quattro anni. Questo qui è il mio secondo anno. Da nove anni. Perché mi piaceva la competizione. Ho fatto prima nuoto, poi calcio e ho deciso di fare la scherma, infine. Non so, mi è venuto d'improvviso, mi è piaciuto. Ho iniziato a provare, mi è piaciuto molto e ho avuto grandi risultati l'anno scorso. Ma è uno sport dove sei da solo contro un altro. Dipende tutto da te. Mi piace l'eleganza che ha la scherma. Mi piace che è uno sport sia individuale che uno sport a squadre. Nella scherma mi piace in particolare che non è solo fisico, ma anche molta testa. Sì, cioè, se diventassi bravo mi piacerebbe molto, però non so se ci riesco. Io ho sempre sognato di entrare in una forza armata, quella delle fiamme gialle. Diventare campionese. Sì, diventare bravo e andare all'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade. Vincerò l'Olimpiade.